Io sono Miriam Fontana, ho 13 anni e vengo da Parma. Studio nella scuola professione danza Parma e in questa scuola studio per tre volte alla settimana musical con degli altri miei compagni e per due volte alla settimana studio danza classica. Grazie alla danza io riesco ad essere molto me stessa, cioè riesco a comunque, grazie ai movimenti danzati, riesco a esprimermi invece che con le parole. Nel musical la cosa che mi piace di più è riuscire a mettere insieme tre materie che mi piacciono molto, quindi il canto, la danza e la recitazione. E grazie alla recitazione riesco comunque anche attraverso il ballo e il canto ad esprimermi in tutti i modi per far sì che il pubblico riesca a sentire quello che sento io. Mi piacciono molto i musical comunque molto ballati, danzati ma anche recitati, sono sempre bella. Sister Act Dolores, perché comunque lei non è proprio una suora, però cerca comunque di fare uscire l'anima alle altre suore che magari avevano un po' più di timore a far notare perché era una suora e quindi riuscire a far tirare fuori tante caratteristiche degli altri che magari non sanno tirare fuori. Il mio sogno è riuscire a recitare in grandi palchi. Io credo che sia, cioè il musical non è molto, come si può dire, in alto, cioè magari si dà più spazio alla danza che si fa ugualmente bene però anche col musical o ad altri sport. Invece col musical si riuscirebbe a mettere insieme varie attività che comunque possono piacere al pubblico e quindi possono far risultare nel pubblico una cosa piacevole. Quindi adesso il musical non è molto comunque usato. Voglio fare un saluto speciale alla mia famiglia che comunque mi ha sempre sostenuta e a tutte le mie amiche di musical. Grazie.